Il 25 settembre si torna al voto, Pesaro Urbino è una provincia in cui non c'è un vero candidato del PD per le uni nominali. Lei come l'ha vista questa decisione e come l'ha presa? Il vero candidato si vede dopo, perché intanto noi avevamo nelle Marche tre parlamentari e presumo che tre li riavremo forse quattro. Quindi tutto da vedere, perché avevamo un parlamentare in questa provincia, un parlamentare nella provincia di Fermo e un parlamentare nella provincia di Macerata. Dubito che noi non rialeggiamo tre parlamentari marchigiani e quindi penso che non sussista questo problema. Le partite non si vincono mai a Tavolino, i collegi sono tutti contendibili. Io sono stato in un collegio a Fano, nel primo governo Berlusconi, come deputato era il collegio peggiore ed ho vinto. Quindi il PD aveva poco più del 25-26%, qui il centrodestra aveva il 50%, io sono stato eletto con il 59-70%. Quindi voglio dire che contano molto anche le persone, contano il rapporto con la gente, contano i partiti e contano anche le coalizioni. Si tratta di vedere come vanno le cose. In questa legge elettorale è un mix tra il listino che dipende dai voti che prende il partito, perché si vota solo il partito, non ci sono le preferenze, non c'è nulla. Ci sono alcuni collegi nominali, in teoria è chiaro che chi ha una coalizione più unita ha più chance, però non è detto, dipende dal candidato o dalla candidata e dipende dai rapporti che ha avuto nel territorio se era già parlamentare. Se non è conosciuto si tratta di vedere come farlo conoscere e poi bisogna vedere i supporter, il mondo delle imprese, gli operai che dicono votano tutti a destra. Io non ci credo che un operaio che vota a destra, perché un operaio che vota a destra vuol dire che o la sinistra, il centro-sinistra non è stato in grado di dare le risposte, oppure è talmente sfiduciato e disperato che prova anche con la destra. Quindi è tutto da vedere. Io ho lavorato tanti anni in fabbrica e non mi ho mai passato nemmeno per l'anticamere del cervello di votare a destra, perché la sinistra per quanto ha avuto i problemi ha sempre dato maggiori risposte. Non ho avuto una risposta ancora positiva da tutta la giunta regionale, da tutti gli assessori regionali, troppe chiacchiere e pochi fatti sulla sanità, sul lavoro, su tutte le questioni, parole, 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 parlare è facile, far le cose è più difficile e quindi è una partita tutta aperta, bisogna giocarla, giocarla bene, io le partite le gioco sempre per vincere.